Il monitor Samsung C300 è un dispositivo studiato per migliorare l'esperienza visiva e la versatilità, elementi utili sia in campo e entertainment che lavorativo. Il design è perfettamente curato in ogni dettaglio, si distingue per le linee morbide e l'ottima scelta dei materiali. Dotato di un display LED Full HD con tempo di risposta di 5 millisecondi, questo monitor TV si dimostra capace di restituire immagini di altissima qualità in ogni circostanza. La sua caratteristica principale è l'estrema versatilità multimediale. Sulla parte posteriore e laterale sono presenti diverse porte di collegamento che consentono di interfacciare il monitor con diversi dispositivi. La tecnologia ConnectShare consente attraverso la porta USB di visualizzare i contenuti salvati su un supporto esterno senza dover accendere il PC, mentre la tecnologia Picture in Picture permette di combinare i contenuti da TV, PC e dispositivi audio per raggiungere un livello multitasking mai visto prima. C300 è un monitor elegante e funzionale, ideale per l'ambiente lavorativo o per l'intrattenimento.